Hanno sfilato tra i viali dell'ospedale Perrino di Brindisi con centinaia di motorombanti per portare il loro saluto ai pazienti e ai sanitari nell'ultima domenica prima di Natale. Centauri provenienti da tutta la provincia hanno partecipato alla seconda edizione di Babbo Natale in Moto, la manifestazione organizzata dal motoclub di Brindisi. I motociclisti si sono ritrovati in mattinata nel piazzale superiore del monumento al marinaio dove sono state raccolte le iscrizioni e quindi la partenza con un serpentone lunghissimo che dal casale si è mosso verso il Perrino a scortarli lungo tutto il percorso la polizia locale. Ad accogliere il corteo all'ingresso dell'ospedale i ragazzi della Clown Therapy che hanno improvvisato uno spettacolo nel piazzale principale seguito da un piccolo concerto del cantautore brindisino Vincenzo Maggiore. Il programma della manifestazione prevedeva che i motociclisti avrebbero dovuto attraversare le vie principali della città per concludere come lo scorso anno la giornata di festa sul lungomare Regina Margherita ma all'ultimo momento l'accesso in città ai centauri è stato negato e il rombante corteo è stato sciolto.